ciao ragazzi oggi vi parlo di wii party è uno dei giochi più belli del nintendo della nintendo wii ci sono tutti come sempre i giochi i suoi dadi gira la ruota gira il mondo e vabbè è la tomba la mie e poi vabbè tre per due non ricordo come era quel gioco poi tutti i miei giochi per le sfide a 4 a tre giocatori e due giocatori e poi e quindi comunque vi auguro un buon divertimento se volete giocare su questo gioco dunque per il momento è tutto come sempre commentate iscrivetevi lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi